Il nuovo direttore sportivo del Campo d'Arsego Calcio, quali sono le sue prime impressioni? Impressioni non è che ho tanto da enunciare perché abbiamo appena raggiunto un accordo con il Presidente e perciò le impressioni le avrò forse da qualche giorno, anche se io lo posso dire sono contento di essere venuto qui a Campo d'Arsego ma soprattutto anche per il fatto che mi lega da un'amicizia da tanti anni con il Presidente e con l'entourage della proprietà. Cosa si aspetta dalla prossima stagione sportiva? Vedremo un attimo quello che sarà la volontà da parte della proprietà che itinerario cercare di percorrere, in quanto tempo cercare di portarlo avanti e con che obiettivi raggiungere. Io forse viene considerato, dopo le ultime cose sono successe, anche un anno zero per ripartire con un nuovo progetto. Io spero che riusciamo a fare una squadra da divertirci e da stare tranquillamente in categoria, anche perché nel contesto di questa annata sarà veramente la base per ripartire poi dopo eventualmente per altre situazioni, anche forse più importanti, in base anche alla crescita totale della società e anche dell'ambiente e dell'impianto sportivo. Grazie.